Fate diventare la vostra società indipendentemente da cosa fate, indipendentemente da cosa vendete, indipendentemente da chi siete, iniziate a ragionare come una media company. Dovete iniziare a comunicare come se foste una media company, cioè una società di comunicazione che vende anche il vostro prodotto di servizio. Il CEO di Red Bull è esattamente ciò che ha fatto negli ultimi dieci anni. Loro dicono, noi siamo una media company che vende anche bibite energetiche. Loro li vedete dappertutto. Ora, provate a pensare, se loro dovessero vendere biciclette col brand Red Bull, secondo voi le vendono? Una sporta, magliette, t-shirt, perché sono diventate una media company, hanno comunicato su più canali, in diversi modi, comunicano, comunicano, media company. Star Wars, pensate che guadagna più soldi, il doppio, mi sembra detto più del 200%, sul merchandising di Star Wars che sui film, che su quello che è il prodotto principale. perché comunicano. C'è il prelancio, c'è il lancio, sono tutti gadget. Quindi occorre diventare una media company. Recentemente Alessandri, che è il fondatore di Tecnogym, ha comunicato che l'azienda romagnola diventa quella media company che Alessandri aveva lasciato intuire a Devos. L'innovazione viene sempre da ricerca e sviluppo. Quindi loro sono originalmente produttori di macchinari per fare attività fisiche, ma stanno diventando una media company. Quindi l'orientamento è diventare una media company. Ma fateci caso, anche con la pubblicità di, mi sembra sia divani divani, loro comunicano. I divani li vedete pochissimi secondi. Vedete di più l'operaio che in Forlivese ti dice quanto è bello quanto noi ci teniamo nel fare queste cose. Media company, fondamentale. Un libro che vi suggerisco è questo qui, Uccidi il marketing. In cui praticamente in questo libro viene spiegato che se il marketing viene visto come pur elemento di spesa, tra virgolette, cioè pubblicitario, sarà sempre un solo elemento fondamentalmente che ci farà uscire soldi. In realtà c'è un, questo grafico secondo me è illuminante. Nel 1995 si facevano le tattiche di marketing. Nel 2005 erano le strategie di marketing. Nel 2000, in questi anni fa parte, il marketing fa parte della strategia aziendale. Siete d'accordo con questo? È diventato un tutt'uno. È il cerchio di prima. Un imprenditore non può più ragionare, io sono, ho un buon prodotto, sfonderò il mondo. Oppure sono un bravo consulente, un bravo professionista, perché è pieno di consulenti. Se non fai un buon marketing, rimarai un piccolo imprenditore, un piccolo professionista. E quindi nel 2025, i media sarà praticamente il modello di business principale di quello che sono le aziende. Quindi il primo pensiero che voglio portarvi è di diventare, indipendentemente da chi siete, diventate una società di media. Iniziate a comunicare, avere il coraggio di comunicare di più, perché questo è il trend del futuro. Noi cosa abbiamo fatto? Siamo diventate la società di media, che fa anche consulenza, che fa anche formazione. Ma in realtà abbiamo Click In Voice, per esempio, è un prodotto, è un software. Quindi comunicando in modo diverso, capendo tra l'altro cosa ha bisogno del mercato, perché man mano che comunicherete, riceverete dei feedback che vi aiuteranno meglio a tarare ciò che serve al mercato e non ciò che piace a noi. Ok? Ci siete. Quindi diventate una società di media.